Non avrebbero pagato i tributi locali e di conseguenza non potevano essere eletti al Consiglio Comunale di Castelvetrano. E quanto avrebbero accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani che hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala nei confronti di quattro consiglieri comunali eletti nel 2019 che ora sono indagati per falso ideologico in atto pubblico. Dalle indagini condotte dalle fiamme gialle di Castelvetrano sarebbe emerso che al fine di essere proclamati consiglieri eletti al termine delle elezioni del 2019 avrebbero attestato falsamente di non trovarsi in condizione di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica dichiarando, contrariamente a quanto sarebbe emerso nel corso delle indagini preliminari, di non avere debiti pendenti nei confronti del Comune. Gli accertamenti investigativi, contrariamente a quanto dichiarato dai quattro consiglieri al momento dell'insediamento avrebbero verificato la sussistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili, peraltro notificati nel tempo agli interessati dovuti a mancati pagamenti di tributi locali. La questione delle diffuse regolarità riguardanti la mancata riscossione delle entrate tributarie nell'anno 2019 che non riguardano ovviamente solo la posizione dei quattro consiglieri sono state dichiarate quale causa principale del dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano. L'attività di indagine conclusa adesso nei confronti dei consiglieri eletti nel 2019 evidenzia la Guardia di Finanza, testimonia il costante impegno del corpo nella prevenzione e repressione di tutte quelle condotte che in violazione delle vigenti disposizioni normative compromettono il buon andamento della pubblica amministrazione e la corretta gestione delle risorse pubbliche.